Gentili telespettatori, buona giornata. Ma Salvini sarebbe al capolinea? Almeno qualche giornale azzarda questa teoria che Salvini al capolinea perché nel crollo dei sondaggi la Lega pensa a un nuovo segretario. Teoricamente, secondo i regolamenti della Lega, potrebbe esserci un nuovo segretario. Ma come fa a esserci un nuovo segretario in un partito fondato da Salvini che nel nome del partito c'è scritto Salvini Premier? Com'è possibile? Teoricamente potrebbe essere eletto un altro segretario al posto di Salvini, ma come si fa materialmente a mandar via il fondatore del partito? Sembrerebbe quasi assurdo. Infatti, per mandare via Salvini gli eletti nella Lega dovrebbero votare contro Salvini, che detiene comunque tuttavia il potere nella Lega, nel senso che non si muove niente se non lo decide Salvini. Pertanto è possibile, ma secondo me non è possibile, ma qualche giornale ipotizza, ma già da tempo che si ipotizza, che Salvini possa essere sostituito. Perché in diversi sondaggi la Lega è stata superata proprio dal terzo polo di Calenda. In alcuni sondaggi c'è il sorpasso, in altri no, però vediamo che il terzo polo più o meno è allo stesso livello della Lega di Salvini, che è crollata dal famoso 35%, 34%, è crollata intorno all'8%. E pertanto in molti auspicano anche all'interno della Lega l'arrivo di un nuovo segretario. L'avventura di Matteo Salvini alla guida della Lega sarebbe vicina al Capolinea, un partito fondato da... perché la Lega, ok, è un partito storico dove Salvini era entrata, però questa non è la Lega di Bossi. Guardate che questa è la Lega di Salvini Premier, perché lui l'ha fondata proprio con il notaio. La Lega di prima è ancora in vita, quella Lega Nord, è ancora in vita perché deve pagare quei famosi 49 milioni. Quindi materialmente esiste quella Lega perché deve pagare quei soldi, ma non esiste politicamente più, è solo lì per pagare dei soldi. Però realmente abbiamo oggi una Lega che si chiama sempre Lega ma è stata fondata da Salvini. È da tempo che si rincorrono queste indiscrezioni su un possibile cambio al vertice della segreteria della Lega. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, ma dicono che nel 2023 potrebbe cambiare in vista del congresso del partito. La linea leghista di Salvini politica accusano è diventata troppo populista, cioè sfacciatamente populista nel senso di c'è un segretario che fa promesse a vanvera, che poi ovviamente non vengono mai realizzate, o delle finte realizzazioni dove alcune cose vengono chiamate con lo stesso nome ma sono tutt'altro. Ad esempio la flat tax, continuano a chiamare flat tax e flat tax ma è una semplice rimodulazione degli scaglioni IRPEF. Ecco, quindi populismo nel far credere all'elettore, dire tante proposte a vanvera e poi realizzare qualcosa che non è quello proposto e chiamarlo con un altro nome per confondere l'elettore. Ecco, l'accusa è che questa linea politica di Salvini è troppo populista e poi parlano di deliri di onnipotenza come al papete che ha fatto sprofondare da lì in poi la Lega, ecco, perdendo voti al Nord, perché pensate un po', la Lega di prima si chiamava Lega Nord, Lega Lombarda, Lega Nord, Lombarda, Lombardia, oggi la Lega e Lombardia ha il 5% e Fratelli d'Italia raggiunge quasi il 35% in Lombardia. vuol dire che Salvini e la Lega è stata completamente sostituita da Fratelli d'Italia, vuol dire che l'elettorato vede nel partito di Fratelli d'Italia un qualcosa di importante per il futuro e la Lega ormai è diventata un partito, 5%, vuol dire che su 100 persone la votano 5 e 95 votano qualcos'altro. Ecco, da questo possiamo dire che al Nord il partito praticamente sta scomparendo. Il principale indiziato alla segreteria è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che non so quanto possa essere diverso da Salvini, magari un po' meno populista, però non so, realmente non ne ho idea, però come fa Luca Zaia a diventare segretario della Lega per Salvini Premier? Non ha senso, capite? Non ha senso. Beh, come spesso raccontato dai media, dice Luca Zaia, sono concentrato sul mio impegno con il popolo veneto che tre anni fa mi ha rieletto presidente con il 77% dei voti. Ma Zaia potrebbe seguire la strada di Bonaccini se venisse eletto segretario del PD, quindi i due presidenti di Regione che diventano segretari di due grandi partiti. Dice, domenica 20 novembre, attorno alle 20.45, Luca Zaia sta per comparire sugli schermi di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio presenta il suo libro che per molti assomiglia a una promessa di discesa in campo nell'area nazionale. In quegli stessi secondi Matteo Salvini interrompeva il suo giorno di riposo. Accede ai social dal suo iPhone e scandisce via il canone Rai, pagarlo per guardare i Fazio o i telegiornali di sinistra, anche no. Attacca proprio Fazio mentre sta intervistando. Luca Zaia è sembrato qualcosa di strano, uno sgarbo verso il collega. Beh, forse è una battaglia furibonda sotto traccia, che fa fatica a rimanere sotto traccia. In Palio c'è una nuova leadership, scrive Il Quotidiano. Ecco, pertanto tutti i segnali ci sono. Naturalmente Salvini fa il finto, dice ma il mio mandato è in mano ai militanti, cioè non è che io sto qua per forza, sono i militanti che mi vogliono qua. Ecco, militanti, ma il partito è suo, l'ha fondato lui, non ha nessuna intenzione di lasciare il posto a nessun altro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.